Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle corde d'arrampicate ed alpinismo del marchio francese Cousin Trestek. Nel particolare qua la Optima da 8.9 mm e le Super Cool War da 8.0 mm. Adesso insieme ne vediamo un po' le caratteristiche e naturalmente anche i pregi e difetti. Iniziamo dalla corda Cousin Trestek Optima. Per quanto riguarda le caratteristiche, come vi diceva, ha un diametro di 8.9 mm. Pesa 54 grammi al metro, ha una percentuale di calza del 33,3%. E la cosa più importante è che ha una tripla certificazione, ovvero possiamo usarla come corda singola, corda gemella o mezza corda. E adesso che non abbiamo visto qualche caratteristica vediamo nei pregi e difetti. L'aspetto che sicuramente è più interessante di questa Optima è la tripla certificazione. Veramente questo aspetto è interessantissimo perché la rende adatta a tantissimi usi. La si può usare per fare alpinismo, la si può usare per fare cascate di ghiaccio, perché comunque io quella che ho provato ho al trattamento anti-acqua. La si può usare in falesia. Volendo la si può usare anche facendo delle multipitch, delle vie molto lunghe, copiata a un'altra mezza corda. Quindi veramente è una corda tutto fare. Parlando appunto di questo trattamento anti-acqua, secondo me è realizzato molto molto bene perché, io vi assicuro, l'ho utilizzata su ghiacciaio, non si è bagnata. Anche se il trattamento che più mi è piaciuto è quello che ho chiamato long life, ovvero tutta la parte interna della corda, tutta l'anima, è stata impregnata di un materiale che la rende durevole nel tempo. Nel particolare ho avuto modo di provare questa corda anche su dello sfasciume pietraia facendo alpinismo. Ragazzi, vi assicuro che facendola anche strusciare per terra non si è rovinata per nulla. Altro aspetto che mi è piaciuto molto è come scorre. Vi assicuro io l'ho utilizzata in un secchiello e va da dio. Cioè scorre è impressionante. È veramente una corda super scorrevole. Non ho avuto nessun problema, nessun impuntamento. Naturalmente dipende anche che tipo di secchiello utilizzate, perché la corda fa il suo ma anche il secchiello ha la sua parte. Però vi assicuro che con il giusto assicuratore va liscia in una maniera incredibile. Altro aspetto che mi è piaciuto tantissimo è la sua morbidezza. È veramente una corda molto molto morbida. Molto morbida e attutisce benissimo i colpi. Io ho avuto la sfortuna in questo caso di provarlo perché durante una via alpinistica sono caduto. Facendo una cengia sono caduto giù di tre metri. Il mio compagno si è preso tutta la botta perché non eravamo ancora in conserva protetta. E vi assicuro che la botta che si è preso da parole sue è stata molto leggera per il tipo di volo che ho fatto. Quindi ha ammortizzato veramente molto molto bene questa corda. Ma non solo perché abbiamo voluto provarla anche volando un po' facendo arrampicata e ci siamo resi conto che si allunga tanto e che ammortizza veramente molto molto bene. Quindi davvero ragazzi una corda che a me ha sorpreso. Poi naturalmente parliamo del prezzo ma questa può essere definita veramente una corda tutto fare e soprattutto anche una corda un po' carro armato perché la potete utilizzare per anni e non avrete sicuramente problemi di usura. Fermo restando naturalmente che dovete anche trattarla bene. Passando invece alle due mezze corde modello couloir abbiamo un diametro di 8.0 mm. Una percentuale che alza quasi del 39%, pesano 44 grammi al metro e queste sono certificate per essere mezze corde e corde gemelle. Adesso che abbiamo visto qualche caratteristica vediamo anche di loro pregi e difetti. Innanzitutto voglio iniziare con i vari trattamenti che anche in questo caso Cousin 3-Stack ha fatto a queste corde. Per quanto riguarda la possibilità di farle durare nel tempo anche qua abbiamo il trattamento Long Life che abbiamo visto sulla Optima di prima ed anche loro sono disponibili con il trattamento Stop Acqua. Naturalmente dal trattamento Stop Acqua se volete prenderlo o no in base all'utilizzo che dovete farne. Anche in questo caso io ho deciso di prendere la misura da 70 metri perché è quella secondo me più congeniale e vi assicuro che pesando solo 44 grammi al metro la si porta dietro che è veramente leggerissima. Soprattutto poi andandole a smezzare una nella persona o una all'altra vi assicuro che non si sente il peso sullo zaino anche se dovete fare dei sentieri d'avvicinamento particolarmente lunghi queste super couloire non vi peseranno sulle spalle. Anche loro una volta utilizzate sono veramente molto molto scorrevoli all'interno dei vari assicuratori ci siamo trovati veramente super bene. In questo caso però abbiamo notato che tendono ad arricciarsi un po' tendono a ingarbugliarsi. Abbiamo notato che lasciandola lì magari quando si arrampica tende a farsi su, a crearsi qualche nodo soprattutto all'inizio. Abbiamo avuto modo di provarle per un 26 volte all'incirca più o meno perché comunque alcune volte abbiamo dovuto abbandonare perché è iniziato a piovere e devo dire che comunque hanno un'ottima resistenza. Dal punto di vista della calza esterna è veramente costruita molto molto bene noi abbiamo fatto delle vie in cui ci è capitato che la calza si incastrasse all'interno di una fessura e non si è rotta. Quindi veramente un'ottima calza. Sono delle corde poi che a me piacciono tantissimi colori vi assicuro quando andrete ad arrapicare con queste corde ve le guarderanno tutte perché sono veramente belle e sono tanto belle quanto funzionali perché anche loro sono molto morbide e sono corde che si allungano tanto e ammortizzano veramente tanto. Anche in questo caso abbiamo voluto provare a volarci e non abbiamo avuto nessun problema anzi sfortuna ha voluto anche qua che su un tiro da 5b il mio compagno sia caduto è volato giù di qualche metro e vi assicuro che la botta si è sentita veramente pochissimo. La corda ha smorzato veramente molto molto bene. Arriviamo dunque alle conclusioni per queste corde di Cousin Trestec. Innanzitutto esistono diverse lunghezze 60, 70, 80 metri. I prezzi variano in base alla lunghezza che prendete. I prezzi che vi dirò sono su quelle da 70 metri che ho provato io. Per le Super Cool War con trattamento stop acqua siamo sui 190 euro l'una. Quindi essendo due mezze corde dovrete pensare almeno a 380 per prenderle entrambe. Per quanto riguarda invece la Optima sempre 70 metri con trattamento stop acqua siamo sui 250 euro. Per quanto riguarda invece quelle senza il trattamento stop acqua sono disponibili e costano ogni circa un 30-40 euro in meno ciascuna. Ve le consiglio? Sì, sicuramente sono delle corde stop di gamma. Sicuramente non sono delle corde primo prezzo. Sicuramente sono delle corde per chi fa già delle vie abbastanza impegnative, lunghe, per chi vuole anche fare dell'alpinismo tecnico, dell'alpinismo impegnativo. Non sono sicuramente delle corde per chi inizia subito alle prime armi. Ecco, questo sia per le loro caratteristiche ma anche e soprattutto per il prezzo. Però vi assicuro che ogni euro speso ne vale la pena. Ne vale la pena perché sono delle corde veramente fatte bene, corde che vi dureranno davvero a lungo. Corde che comunque sono realizzate da un'azienda francese in Francia che quindi danno anche una certa garanzia e anche un certo supporto post vendita. Non conoscevo direttamente questa azienda, anche se in Italia ci sono in giro delle proprie corde rimarchiati con il nome di altri brand. Quindi potremmo averle utilizzate senza neanche saperlo. Però veramente sono delle corde che sono davvero tanta tanta roba. E detto ciao ragazzi, nella speranza sei stato questo prezzo sostitivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!